Spiego anche il perché, perché è un pezzo un po' particolare, prima magari era la prima volta che lo aspettavate, c'era il gatto, c'era il cucù, c'era il chiu, era più le volte che si rideva per studiarlo che le volte che si riusciva a portare avanti, però ce l'abbiamo fatta e siccome mi è piaciuto tanto, allora lo riproponiamo. Applausi Spiego 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 Fa la 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 mia figlia è la mia figlia, la mia figlia è la mia figlia. La 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 Grazie.